Con Luigi Medori arriva una sconfitta elettorale, Medori rappresentava un'area politica legata al centro-sinistra, amministrazione uscente, c'è stato un distacco rispetto ad Amatucci? Certo, un distacco non importante, io ci puntavo, ci credevo, però evidentemente Amatucci è stato più bravo, quindi il verdetto è chiaro, io adesso l'aspetto alla prova dei fatti, sarò sicuramente al suo fianco nel caso dovesse fare cose che riteniamo buone e positive per il Paese, ma sappia che avrà una vigilanza costante e presente dalla parte mia e dai consiglieri che saranno eletti. Ovviamente lo scontro era tre, con tre liste civiche, ovviamente con impostazioni politiche diverse, insomma la sua era di centro-sinistra, con due liste di centro-destra, dal suo punto di vista cosa non ha funzionato? Ma non è che, non lo so che cosa non ha funzionato, adesso non è che è il momento che posso fare un'analisi lucida, è riduttivo chiamarla centro-destra e centro-sinistra perché erano presenti nella mia lista, l'ho sempre detto che era una lista trasversale, quindi non avevamo un colore politico preciso. L'analisi la faremo adesso nei prossimi giorni e certo che ha vinto Amatucci e questo non è contestabile, lo accettiamo serenamente.